Arrestato dai carabinieri a Ceccano, un 42enne residente a Frosinone, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale del Capoluogo. L'uomo doveva scontare una pena di un anno e otto mesi di reclusione in quanto condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo aveva commesso questi reati nei mesi tra febbraio e novembre del 2017 nei confronti della sorella che viveva con lui a Frosinone. L'uomo è stato condotto al carcere del Capoluogo. A Veroli invece i carabinieri dopo accurate indagini svolte in collaborazione con i RIS di Roma hanno denunciato un 32enne di Frosinone già con precedenti per lo stesso reato per un furto commesso in un negozio a settembre del 2018. I carabinieri accertavano attraverso immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza che il 5 settembre del 2018 durante la pausa pranzo l'uomo si introduceva all'interno di un'attività commerciale situata a Veroli rubando 3.000 euro in contanti. A Cervano infine i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino un 46enne residente nella città martire per furto aggravato. I carabinieri hanno accertato che il 46enne si era appropriato del portafoglio di un 51enne di Roma che lo aveva appoggiato sopra la pompa di benzina ad un distributore di un'area di servizio. Furto filmato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell'impianto.